music, news, sport, every day for you on the web lecochannel.it, the blue light, blue radio tutta la rete dall'ecco, grandissima rete di Cristofoli stop a seguire, poi in area a sportellate si porta avanti il pallone e trafigge imparabilmente Bastianello 11 minuti, Cristofoli a segno per la seconda partita consecutiva palla rilanciata verso Cavalli, Cavalli potrebbe servire Bertani sulla corsa Bertani palla sui piedi, dal limite fa partire la conclusione e Bastianello controlla Pregnolato che riconquista la sfera e cerca i suoi avanti Ivan Merlisala di testa adesso Brugger ancora un altro lancio lungo verso Bertold in area Nava ci mette le mani parte la battuta sul secondo palo Merlisala sportellate ma la palla rimane lì a disposizione di Pregnolato poi la battuta sulla traversa attenzione a Cristofoli, Bertani, Cavalli riescono a liberare fatto sta comunque che rimane l'occasione da rete per il Levico tanto Cavalli bellissimo lancio per Bertani la palla rimane lì, Bertani porta vuoto Bastianello è uscito Bertani, Bertani a terra no, non è riuscito ad andare alla conclusione arriva Cavalli dall'out di destra, Cavalli cross dentro, Ghidinelli lo stop a seguire il contro cross che però finisce sulla rete esterna della porta 18 minuti angolo per il Levico attenzione la palla che viene ribattuta dalla retroguardia blu celeste poi si scambiano, si scontrano Rinaldi attenzione la palla rimane lì nell'area piccola Nava vuoto e poi libera la retroguardia blu celeste ancora Cosentini attenzione il palo e la palla rimane Nava palo della Levico Terme Merlisala batte verso Cristofoli che di testa spizza verso Cavalli Cavalli lascia a Bertani la battuta che mette in difficoltà Bastianello che poi riesce a recuperare la sfera ancora no, rimessa laterale Bertani palla per Mureno Mureno riesce a farsi largo cerca la linea di fondo il cross Cristofoli è l'arata dall'acco 2-0 Fabio Cristofoli il bomber riesce nella doppietta tre gol in due partite implacabile Cristofoli stacco di testa ancora un cross dalla sinistra di Mureno e Cristofoli impatta sul primo palo 32 minuti ancora lui ancora Fabio Cristofoli mentre tanto Alberti allarga Micheli lancia in aria per Bertoldi attaccato da Zamuto Bertoldi no ma Bertoldi che si tuffa in maniera clamorosa e a bocca Farano a bocca parte e Nava lo para e Nava glielo para giusto così giusto così rigore inesistente e Nava para e finisce qui la partita 2-0 l'ecco reti inviolate grazie anche all'ultima parata su calcio di rigore di Nava music news sport every day for you on the web leco channel dot it the blue light blue radio video